Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un tutorial per poter creare targhe invisibili da mettere su un'auto A cosa serve ragazzi? Serve a tutte quelle persone che hanno le targhe personalizzate e bloccate In caso ci fosse un glitch dove non è possibile pulire le targhe, questo ci tornerà molto utile Allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di una base operativa Il nostro amico deve avere la stessa nostra base operativa, deve avere una vendere Non è necessario, mi sembra che lo abbiamo anche noi Però comunque sia, se ce l'abbiamo è meglio Però non mi sembra sia necessario A questo punto diventiamo CEO e mandiamo un invito al nostro amico, ma andiamo a fare tutto passo per passo ragazzi Quindi diventiamo CEO, facciamo assumi associati dopo che siamo diventati CEO E dopo che abbiamo fatto assumi associati ci posizioniamo su ritirati Scusate ragazzi A questo punto il nostro amico andrà ad aprire il telefono, andrà ad aprire l'invito, accetterà l'invito e correrà verso la porta della cabina della vendere Immediatamente quando vedrà schermata nera ce lo dirà e noi usciremo dal CEO, ci ritireremo A questo punto il nostro amico sarà nella nostra base operativa Ma continuerà a vedere la sua base operativa Come vedete è qui nella mia base operativa Quindi ora potremmo fare il glitch ragazzi, è semplicissimo Questo primo passo mi raccomando non tardate molto a dimettervi da CEO Perché altrimenti il vostro amico si potrebbe trovare fuori dalla base operativa Scusate stavo dicendo installazione ma vabbè lo stava di spagnolo ragazzi Fuori dalla base operativa E una volta fatto il tutto salite sull'auto Allora alcune volte ve la lascia guidare, lascia il vostro amico guidare Ma altre volte no Quindi io consiglio sempre di fare o un cambio sessione o di andare nel creatore Però andiamo a vedere Il nostro amico si posizionerà qui Dove adesso premerà triangolo e non appena toccherà la portiera della nostra auto Per salire in auto noi premeremo triangolo e scenderemo Esattamente come state vedendo nel video A questo punto come potete constatare come nel video precedente Non mi lascia diciamo il mio amico non lo lascia guidare nella mia base operativa Quindi l'unica cosa che io devo fare è andare o in un'altra sessione o nel creatore ragazzi Tanto il nostro amico rimarrà sempre buggato nella sessione e nella nostra base operativa Quindi lasceremo la sessione Andremo nel creatore A questo punto il nostro amico ci inviterà Nella sessione tramite un giochiamo insieme E quando avrà fatto un giochiamo insieme Rientreremo nella sessione ragazzi Adesso andremo a vedere sempre passo per passo Come vedete il nostro amico anche nel video precedente l'ho fatto vedere Può guidare immediatamente l'auto dopo che noi siamo usciti dalla sessione Quindi andrà a posizionare l'auto in questo punto Noi rientreremo in sessione e andremo a fare i passaggi successivi ragazzi Nel glitch in precedenza quello che abbiamo visto per duplicare le auto Dovevamo chiamare una LG RH8 da sacrificare E metterla fuori dalla base operativa E continuare a fare il glitch Mentre in questo glitch dobbiamo fare diversamente Allora innanzitutto preoccupiamoci prima dello spawn in auto o meno ragazzi Quindi ci dobbiamo preoccupare di vedere se riusciamo a spawnare in auto E se ci metta al posto di guida insomma Quindi a questo punto quando abbiamo fatto questo passaggio L'unica cosa che dobbiamo fare è Uscire fuori dalla base operativa e chiamare una Un'auto Un'auto quale può essere una Non so Un'auto che avete duplicato e che volete vendere Un'auto qualunque ragazzi Un'auto che volete vendere Quindi adesso usciamo fuori dalla base operativa Chiamiamo l'auto che vogliamo vendere Io in questo caso ragazzi vado a chiamare una Sultan Perché comunque ne ho tante Quindi andrò a vendere questa Sultan Una volta che ci arriva il veicolo che abbiamo chiamato Dobbiamo andarlo a vendere Scusate ragazzi Nel glitch invece in precedenza Quello che vi ho portato prima sul canale Dovevamo chiamare una LGRH8 E poi rientrare nella base e uscire con il veicolo Invece in questo caso noi dobbiamo vendere questo veicolo In maniera che il gioco in pratica rilevi che c'era un veicolo in sessione Che però magari No magari Che però è stato venduto E automaticamente ci metterà una targa invisibile Ma passiamo al glitch ragazzi Passiamo a tutto il video Quindi andiamo allo Santos Custom Vendiamo il veicolo Io qui l'ho riparato ma non serviva Vendiamo il veicolo E potremmo avere la nostra targa invisibile Quindi io qui mi chiamo un elicottero per fare prima Non serve che facciate questo passo Io lo sto facendo per chiamarmi un elicottero Insomma per sbrigarmi a tornare alla base operativa Però comunque sia Vedete voi se prevate farlo Se prevate tornare a piedi con la macchina Vedete voi Quindi una volta tornati in base operativa L'unica cosa che dovete fare È uscire dalla base operativa Con l'auto che abbiamo in base operativa Ma adesso passeremo a farlo Mentre ve lo commento insomma Quindi entreremo nella base operativa E faremo il penultimo passaggio Il penultimo step ragazzi Perché questo qui è il penultimo step Non è proprio lo step finale diciamo Mamma mia quanto ci mette Se le potevano pure risparmiare Le animazioni della base operativa Quindi ci mettiamo qui Vediamo se abbiamo il respawn diretto in auto Quindi una volta che abbiamo visto Che abbiamo il respawn diretto in auto Siamo pronti per poter fare il glitch ragazzi Ci mettiamo qui Facciamo comparire la scritta Esci dalla base operativa E premiamo X e triangolo insieme Quando saremo fuori ragazzi Avremo già la nostra targa in disini Come state vedendo Però dovremmo fare un ultimo passaggio Ragazzi Dovremmo chiamare il nostro centro operativo E dovremmo andare a salvare la nostra auto Dentro al centro operativo Quindi una volta chiamato il centro operativo Aspetteremo che ci arriverà E salveremo la nostra auto nel centro operativo E successivamente la andremo a mettere in garage Allora ragazzi Vi spiego una cosa Cosa che non ho detto nel video precedente Perché mi sono dimenticato E quando entrate nel centro operativo Sia nel caso della duplicazione Sia nel caso della targa invisibile Entrateci per due volte nel centro operativo Ragazzi Io qui ci sono entrato una volta Perché mi sono dimenticato Però poi ho perso l'auto con la targa invisibile Quindi voi entrate la prima volta nel centro operativo Non è importante se è pieno o vuoto Io qui ce l'avevo pieno Ma non è importante Entrate nel centro operativo Uscite e rientrate una seconda volta Ragazzi Il glitch è semplicissimo Detto questo Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti